Sono sbarcati questa mattina al porto di Taranto i 403 migranti salvati in mare dalla ONG Ocean Viking, tra di loro anche donne e bambini ammalati. I nomi dei papabili candidati al Consiglio regionale del centrodestra, ma anche le polemiche sui social e i dubbi sul candidato presidente e alle porte la campagna elettorale per Puglia 2020. A Francavilla Fontana il progetto Piantiamo il futuro ha portato alla piantumazione di 10 alberi di olivo nella villa comunale per un ponte generazionale tra studenti ed anziani. L'Epicasa perde 93-83 in Ungheria contro il Falco e viene eliminata dalla Champions League di basket. Calcio e Lecce prepara il doppio colpo. Barakstin, Mastropietro analizza il momento magico del Francavilla e il Brini si mette nel Mirino il Dumentum e a Taranto il DS De Santis fa il punto sui casi Cosnic e D'Agostino. Buon pomeriggio e ben trovati, siamo in diretta con l'informazione di 85 News edizione delle 13.55. In primo piano lo avete ascoltato dai titoli in apertura di telegiornale lo sbarco di oltre 400 migranti al porto di Taranto questa mattina salvati dalla ONG Ocean Viking, tra di loro anche donne, bambini e ammalati per un viaggio, possiamo dirlo, di speranza ma che ha rappresentato anche una vera e propria odissea. Tutti i dettagli nel nostro primo servizio. Sono 407 le persone sbarcate dalla Ocean Viking, la nave ONG che nei giorni scorsi ha raccolto nel Mar Mediterraneo 255 adulti, 152 minori di cui 132 non accompagnati, a bordo anche 12 donne incinte, complessivamente 20 le famiglie prevalentemente di origine africana, Sudan, Somalia ed Eritrea, le regioni più rappresentate. Sono giunti a Taranto tra mille difficoltà, quando sono stati salvati molti erano stipati su piccole imbarcazioni piene d'acqua che rischiavano di ribaltarsi, altri soffrivano di ipotermia e mal di mare, coperti di carburante, viaggiavano a bordo di un gommone affollatissimo. Rilevati due casi di presunta tubercolosi, sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti e alcuni casi di ustioni da idrocarburi dovute al contatto tra benzina a bordo e l'acqua di mare. La nave ha ormeggiato al molo San Cataldo del porto di Taranto alle 8.58 ad attendere lo sbarco, la solita imponente macchina dell'accoglienza predisposta dalla prefettura di Taranto. I migranti giunti stamattina sono stati trasferiti al vicino hotspot per poi essere dislocati nei centri di accoglienza del territorio nazionale ed estero. 30 minori non accompagnati hanno già trovato sistemazione in comunità educative del territorio ad attendere l'arrivo di queste persone. Anche il presidente di SOS Mediterranea, Alessandro Porro, che ha raccontato l'odissea di questi migranti. Si dice migranti ma sono in realtà persone, dobbiamo ricordarci che sono persone che scappano da una situazione pericolosa. Focalizzare l'attenzione sul fatto dei 152 minori, di cui 130 passa, non accompagnati, che si mettono a rischio per fare un viaggio che sa non essere pericoloso, ma lo fanno anche sapendo che scappano da una condizione che è più pericolosa. La Libia è in guerra, la Libia è un paese non sicuro e in mezzo c'è il mare. E' dove stiamo noi cercando di fare un soccorso. Migranti a Taranto sul caso, tanti interventi anche piuttosto accesi nei toni come quelli registrati nella giornata di ieri da Salvini. Allora rispondere a Salvini sono le sardine di Taranto che chiedono al leader della Lega di non fare sciacallaggio a fini elettorali. Degli oltre 400 migranti sbarcati oggi a Taranto dall'Ocean Viking scrivono le sardine, nessuno minerà il già precario equilibrio della crisi tarantina. Andranno per il momento a Cara di Bari, molti di loro saranno ricollocati in base al programma della ripartizione europea in altri stati membri. I minori invece, ricordano sempre le sardine, prenderanno le strade dell'assistenza la rete che in tutta Italia, con il Supriomi, si occupa di protezione e progetti di integrazione. Andiamo avanti, cambiamo decisamente argomento. Ieri in prima serata a Lecce intorno alle 7 una donna in monopattino è stata travolta da un'auto, ora in gravissime condizioni, ricoverata in ospedale al Vito Fazzi. Guardiamo. Viaggiava sul suo monopattino elettrico come da tendenza dell'ultimo periodo, quando forse a causa della scarsa visibilità è stata colpita da un'auto di passaggio. L'incidente è accaduto in via Realino, vicino al ponte di San Cesario. Si tratta di una donna di 37 anni che è stata sbalzata dal mezzo e una volta caduta per terra è stata immediatamente soccorsa a un passante. Il conducente dell'auto però ha continuato la sua corsa senza prestare soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasferito la donna in rianimazione presso il vicino nosocomio Vito Fazzi di Lecce. Indagato dai carabinieri si tratta di uno dei primi incidenti che hanno come protagonista il nuovo mezzo di commozione. L'incidente è accaduto intorno alle ore 18.30 nel pieno centro della città di Lecce. La donna adesso è in coma e ricoverata in terapia intensiva all'interno dell'ospedale di Lecce. Sono accusati di aver pilotato un'asta giudiziaria per favorire una donna. Finire nei guai arrestati dalla Guardia di Finanza sono un avvocato e un agente immobiliare. Guardate. Avrebbero pilotato un'asta giudiziaria riguardante alcune proprietà immobiliari tra cui una masseria nelle campagne di Ostuni appartenente a una donna di Fasano per impedire che potessero essere vendute ad altri. Con l'accusa di turbativa d'asta sono stati arrestati e posti ai domiciliari l'avvocato Antonio Zurlo e l'operatore immobiliare Biagio Marseglia a entrambi di Ostuni. Secondo quanto accertato dai militari della Guardia di Finanza della compagnia di Fasano che hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del Tribunale di Brindisi attraverso un articolato sistema di interposizioni di prestanome e di una società attattamente costituita, i due avrebbero alterato il prezzo degli immobili per fare in modo che l'affare non fosse appetibile per altri potenziali acquirenti. In un caso da uno degli indagati è stata proposta anche una cauzione con il denaro della stessa proprietaria. In un altro invece l'avvocato avrebbe costituito una società per poter presentare una proposta di acquisto. In realtà l'acquisto non veniva mai completato ma nel frattempo si erano allontanati altri possibili acquirenti. All'aggiudicazione a valori elevati dei beni seguiva l'omesso versamento della somma a saldo del prezzo per giungere alla decadenza dell'aggiudicatario, non in grado di pagare e quindi a una proroga dei tempi della procedura. Così il patrimonio rimaneva di fatto nella disponibilità del debitore e non sarebbero stati soddisfatti i creditori. Ancora incendi a Taranto con tanta apprezzione nelle scorse ore per un senza tetto. È stata ancora una notte di fuoco quella appena trascorsa a Taranto all'hotel Palace di Nuovole Fiamme in centro città in Viale Virgilio ma adesso noi ci troviamo in periferia in particolare tra Lama e San Vito. Via Incrociatori con via Brigantini all'angolo c'è questo vecchio rudere dove trovava dimora un senza tetto fino a qualche ora fa. Mustafà è un ragazzo che qui tutti conoscono, che aiutano come possono. Dicono che è anche molto simpatico però questo è quello che resta di quella che era la sua dimora. È tutto bruciato, si intravede una rete, un vecchio materasso completamente andato a fuoco, è rimasta solo la struttura metallica e quando avete visto queste fiamme vi siete spaventati. Sì, effettivamente è una persona che conosciamo perché quotidianamente frequenta il quartiere. Devo dire che dal punto di vista della sicurezza sociale non ha dato alcun problema e viveva in una situazione assolutamente estrema. Riporto proprio le richieste di alcuni commercianti, di alcuni abitanti della zona che più volte si sono avvicinati a lui chiedendo appunto se avesse bisogno di aiuto, anche semplicemente di una doccia. Lui non ha mai permesso l'allontanamento. Aveva raccolto tantissimi oggetti e accumulati all'interno di questa struttura. Qualcuno potrebbe aver avuto l'idea di dar fuoco? Questo non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Certo, la dinamica non è proprio chiara. Io mi sono attivata subito con l'ufficio preposto. Si erano avvicinati a lui sperando di avere un riscontro positivo da parte sua nell'essere portato in qualche centro di assistenza e comunque essere assistito. Ma lui si era effettivamente opposto. Continueranno, mi ha ribadito, a cercare di monitorare questa situazione. Diventa un po' pericoloso per lui e anche poi di conseguenza per gli altri. Dobbiamo segnalare l'intervento rapido dei vigili del fuoco qui sul posto. Subito hanno spento le fiamme. Però adesso resta quest'area circoscritta. Noi ci auguriamo insieme che naturalmente Mustafa possa non tornare ma possa andare in un luogo più consono. Assolutamente, quello è l'auspicio. Restiamo a Taranto. Lo ricorderete qualche tempo fa. Vi raccontammo di Niccolò Fabbi, il cantante, l'artista romano, che proprio a Taranto al Tamburi aveva finanziato l'apertura di un parco giochi per bimbi. Un parco giochi in realtà poi neppure mai aperto, dimenticato e i loro genitori a Taranto sono scesi in sit-in per protestare e per chiedere lunghi. Guardate. Qui doveva esserci un bel parco giochi per il quartiere Tamburi, in particolare per i bambini di questo quartiere. Ecco, Niccolò Fabbi, lo sappiamo, è balzato agli onori della cronaca nazionale, si è lamentato perché ha detto io ci ho messo le mie idee, i miei finanziamenti, ma non si è fatto nulla. Il Comune subito ha risposto attraverso l'assessore a ramo, Francesca Vigiano, che ha detto noi danneggiati quanto lui. Adesso pare, dalle ultime informazioni che voi avete raccolto, che tutto sia in mano all'ARPA. Intanto parliamo di questo sit-in, i genitori del quartiere hanno voluto rivendicare questo diritto? Allora sì, perché noi da diversi anni siamo stati coinvolti anche per la scelta di questa area, perché già 4-5 anni fa fumo contattati per vedere quale potesse essere quella più adatta di Carlo, figlia di Niccolò Fabbi. Fino a qualche giorno fa qui avevamo delle erbacce che sovrastavano i giochi e le panchine e tutto. Abbiamo potuto constatare che stanno già avvenendo dei lavori, però è l'ARPA che in questi giorni sta facendo ancora approfonditi accertamenti, perché logicamente qui verranno bambini a giocare. Deve essere sicura l'area. Deve essere sicura, è giusto che sia così. Ricordiamo che questo è il quartiere in cui l'allora sindaco vietò di giocare nelle aiuole proprio per l'inquinamento, però c'è anche un aspetto in più che vogliamo sottolineare. Qui noi ci venivamo due anni fa anche con Francesco, oggi anche da mamma fa male vederlo ancora chiuso. E infatti, è proprio questo, proprio perché abbiamo lottato con Francesco per queste cose a livello sociale, perché a Francesco stavano a cuore e ora bisogna concretizzare. Ecco, abbiamo bisogno, perché il nostro quartiere, insomma, sempre nominato soltanto per le cose negative, si può fare qualcosa di bello? E hanno ragione. Andiamo avanti, andiamo a Francavilla Fontana, in villa comunale, anche questa come parco più volte al centro della cronaca per problemi legati alla cura del verde. Un piccolo passo è stato fatto questa mattina con la piantumazione di dieci alberelli d'olivo che diventano una sorta di ponte tra generazioni. Guardate. Prima di piantare un albero d'olivo si fa un buco, poi dopo si può mettere dentro e si chiude completamente, si chiude. Nel secondo tempo si può fare una piccola buca ancora e si innaffia e la pianta può crescere facilmente. Però portarla pure ogni 8 giorni, 15 giorni e darle un po' di acqua. Sorridete, applaudite, gioite, arrivano gli olivi, simbolo di terre accoglienti, icone pugliesi, alberi da frutto pregiato, monumenti pure da coltivare. Letteralmente, le dieci piante donate dalla SPCG e le brindisi nell'ambito dell'iniziativa Piantiamo il futuro e destinate alla villa comunale di Francavilla Fontana hanno lo scopo, orgogliosamente dichiarato, di creare un ponte tra il mondo giovenile e gli anziani. È una specie che, secondo la scienza, non viene aggredita dalla xylella. Questo è un primo fatto importante, quindi è un gesto, come possiamo dire, di resistenza, è un gesto con cui ci diamo coraggio di fronte a questa malattia. Per una generazione che ha, evidentemente, un debito con il verde, con i ragazzi. Ci siamo posti appunto la domanda di come contribuire effettivamente, concretamente, alla rinascita anche dal punto di vista della sensibilità necessaria per la tutela ambientale. Quest'azione qua serve proprio per dare un segnale di ripagarli per quello che noi abbiamo contribuito alla distruzione. Il progetto porterà la messa a dimora sul territorio pugliese entro il mese di febbraio del 2020 di mille alberi e almeno 150 in ogni provincia. Così, anche così, si contrasta la la xylella e quegli errori, troppi errori commessi dalle vecchie generazioni. Apriamo la pagina dedicata alla politica, nello specifico parliamo di regionali, non quelle passate in Emilia Romagna o in Calabria, ma le prossime future in Puglia. E allora, la Lega è al lavoro, insieme alle altre forze della coalizione centrodestra, per cercare di fare quadrato sul nome di un candidato. Chiaramente si parla di Fitto, ma non solo. E allora i cittadini, invece, cosa ne pensano? Guardate. Dovrebbe essere questa la settimana decisiva per il popolo del centrodestra che attende l'ufficialità del proprio candidato presidente alla Regione Puglia. E così, mentre la Meloni, forte dell'accordo sancito a livello nazionale, dà per certa la candidatura di Raffaele Fitto, i parlamentari della Lega cercano di far saltare l'accordo proponendo proprie alternative. Diverse le personalità pronte a mettersi in gioco, Danuccio Altieri a Divella Junior, per arrivare a toti di mattina, imprenditore salentino, sul quale avrebbe puntato lo stesso europarlamentare Massimo Casanova. Oltre ad essere ben voluto e uomo fidatissimo, anche del senatore Roberto Marti. Una prova muscolare, insomma, all'interno del centrodestra, perché Fitto potrebbe andare bene a tutti, ma trova proprio nell'area martiana il blocco più difficile da superare. Ma i cittadini, intanto, sanno che tra pochi mesi saranno nuovamente chiamati al voto e danno le idee chiare su chi vorrebbero e quale partito vorrebbero alla guida della Regione Puglia. Signora, si vota tra pochi mesi alla Regione Puglia, lo sa? No. Sto dicendo lei. Quale partito vorrebbe al governo della Regione? Io parto sempre dal presupposto che migliorarsi dipende dal colore, non del partito ma della persona. E si parla di Raffaele Fitto, si parla di un candidato della Lega, tra i due quale sceglierebbe? Raffaele Fitto. Raffaele Fitto. In centrodestra sono due le ipotesi, o Raffaele Fitto o un candidato della Lega, lei quale preferirebbe? Ne avrò tutti contro, probabilmente un candidato della Lega. Grazie mille, buona giornata a lei. Quale partito vorrebbe al governo della Regione? Nessuno, nessuno perché sono diventati tutti uguali, anzi sono peggiorati tutti. Sicuramente Fitto, pur avendo fatto il suo tempo da governatore, potrebbe essere una buona alternativa. Andiamo avanti, ma restiamo in argomento, parliamo sempre di regionali, ci spostiamo però nel Brindisino dove sempre il centrodestra è al lavoro per la composizione delle liste. Il nostro Davide Cucinelli si è lanciato in una sorta di totonomi, sentiamo un po' chi sono i papabili. Centrodestra ha il lavoro in vista delle regionali, non solo per il nome del candidato presidente, ma anche per le candidature a consiglieri, con i vari territori che cercano di avere la massima rappresentatività. Potrebbero essere tanti i volti noti del territorio Brindisino e lista. Per Fratelli d'Italia, infatti, dovrebbero trovare posto, oltre al consigliere comunale Massimiliano Oggiano, anche l'ex sindaca di Brindisi, Angela Carluccio. Per Torre Santa Susanna potrebbe trovare spazio l'assessore Tiberio Saccomanno e Dostuni, Grazia Neglia e Francesco Semeralo, con quest'ultimo che insieme a Pietro Guadalupi, ex presidente del consiglio comunale di Brindisi, che potrebbero trovare spazio in una lista civica del candidato presidente. Per la Lega sembrerebbero certi i nomi dei rappresentanti della provincia di Brindisi, dall'ex parlamentare Vittorio Zizza all'ex consigliere regionale Maurizio Friolo, oltre ad Antonio Scianaro ed Adriana Balestra. Per il capologo adriatico a giocarsi il posto e lista sarebbero Paolo Taurino, ex coordinatore cittadino e provinciale del partito leghista, ed il consigliere comunale Ercole Savonaro. A chiudere il quadro Forse Italia, nel quale dovrebbero trovare spazio gli ex sindaci di Ceglie Messapica e Fasano, Luigi Carori e Lello di Bari, oltre all'ex assessore regionale parlamentare Luciano Sardelli e dal francavillese Giovanni Taurisano. Per la città di Brindisi potrebbero invece trovare spazio in lista la coordinatrice, cittadina e Ernestina Sicilia, ed il consigliere comunale Gianluca Quarta. Manca solo l'ufficialità, ma sembra che ormai i motori per le regionali del centro-destra, in Puglia e nel Brindisino, siano pronti a partire. Eh sì, motori pronti a partire lo si vede anche da Facebook. L'avete sentito Adriana Balestra, consigliera comunale e provinciale per la Lega, è appunto data tra i papabili per la candidatura consigliere regionale. È proprio una balestra, ha dato vita a una sorta di battibecco via social, con l'ex sindaco di Francavilla Fontana, Maurizio Bruno, anche lui tra i papabili candidati, chiaramente sul fronte PD. Il botte a risposta è stato piuttosto duro, sentite. Entrambi di Francavilla Fontana, entrambi in odore di candidatura alle regionali. Certo, sull'idi diametralmente opposti. La campagna elettorale, in vista delle elezioni di primavera, nella città degli imperiali, profuma già di polemica. Maurizio Bruno, capogruppo PD, attacca la campagna elettorale della Lega, definendo la monnezza. E allora, ecco che Adriana Balestra, consigliera leghista in comune ed in provincia, invita l'ex sindaco a chiedere scusa. Sappi che ogni qualvolta attaccerai me, la Lega o un leghista come portatore di odio, io, scrive la Balestra, pubblicherò questo tuo vergognoso posto, esattamente come sto facendo oggi. Se vuoi fare un favore non a me, ma al clima di questa campagna elettorale, chiedi pubblicamente scusa. Scuse che però non arrivano. Per Bruno, il razzismo, l'insulto costante di chi ha orientamenti religiosi o sessuali diversi, la strumentalizzazione dei bambini o di qualsiasi tragedia e via dicendo, sono tutte azioni politiche che non posso che definire monnezza. Parliamo sempre di politica, ci spostiamo però a Lecce, dove si definisce un dottor Jekyll e mister Hyde della politica Gaetano Messuti, che riorganizza il suo movimento Sentire Civico, proprio con un occhio alle regionali. Guardate. Dà nuovamente voce al civismo Gaetano Messuti, chi ha chiamato a raccolta i suoi per mostrare i muscoli e far pesare il lavoro portato avanti in questi mesi dal movimento del quale è padre putativo. Cambia il vertice di Sentire Civico, con il consigliere comunale Tramacere, quale guida politica e dieci nomine in altrettanti comuni. Ha aperto la conferenza stampa con un'analisi politica Messuti, analizzando soprattutto l'attuale dietriba per la scelta del candidato presidente alla Regione Puglia. La logica, come ho già detto in conferenza stampa, delle divisioni o delle affermazioni di una sigla rispetto ad un'altra ha determinato morti e feriti in tutti quanti questi anni all'interno del centro-destra. Quindi ci vuole consapevolezza di quello che è successo, consapevolezza di danni che la irragionevolezza politica del centro-destra ha determinato e bisogna trovare una sintesi. Si dice un dottor Gekio, un misteride della politica Messuti, in quanto diviso tra un'anima politica e un'anima civica. Significa che in me convivono due anime. Convive una tradizione, una politica ventennale, convive un'esperienza di civismo straordinaria che è in grado anche di arricchire l'azione politica. Qui c'è una combinazione quasi magica, quasi straordinaria. Sentire Civico, insomma, rivendica la propria storia e la propria autonomia vicino al territorio e non asservita ad alcun partito ed in merito ad una possibile candidatura alla regione, Messuti dissolve ogni dubbio. Allora, oggi, come lei ha ben detto, mancano tutte queste precondizioni, quindi parlare di candidatura mi sembra proprio totalmente, non dico azzardato, anzi sicuramente azzardato. Se ci saranno tutte quante queste condizioni, chiaramente sarà una valutazione che si farà col movimento. Andiamo avanti a Grottaglie, quindicesima edizione per medici per San Ciro. Vediamo. Prende forma la Fiera Internazionale dell'Aerospazio di Grottaglie e due gli incontri preparatori nell'assessorato regionale allo sviluppo economico. Il gruppo organizzatore, la presenza dei dirigenti della regione Puglia, dei rappresentanti di aeroporti di Puglia, del distretto tecnologico aerospaziale, di Puglia a sviluppo, ENAC e Arti, è proseguito il lavoro organizzativo dell'evento, che ha lavorato per la finalizzazione del programma della Fiera, del logo, del materiale di comunicazione ed ancora del progetto grafico, degli aspetti relativi alla dimensione istituzionale. Nella seconda riunione, che si è svolta a seguire, lo stesso gruppo organizzatore ha poi incontrato il Comitato di Coordinamento Istituzionale Territoriale, formato dai rappresentanti istituzionali dei comuni di Taranto, Grottaglie, Monte Iasi e Carosino. Abbiamo, dice l'assessore allo sviluppo economico regionale, Mino Borraccino, fortemente voluto la partecipazione del sistema istituzionale tarantino, poiché lo riteniamo importante per la buona riuscita di questo storico evento internazionale, al quale stiamo lavorando con notevole impegno. Possiamo dire che c'è stato molto apprezzamento a riguardo, i rappresentanti presenti hanno mostrato molto interesse e soddisfazione per il coinvolgimento. Giunti, infatti, diversi preziosi suggerimenti, relativi soprattutto alla mobilità per i partecipanti alla fiera, per agevolare l'arrivo all'aeroporto di Grottaglie dalla città di Taranto. Prosegue dunque il nostro impegno per questa iniziativa, che rappresenta una grossa opportunità di sviluppo e scambio tecnico-scientifico, per rafforzare la collaborazione nel campo della ricerca e dell'innovazione, oltre che nell'ambito commerciale, conclude Borraccino. E questo era il servizio sulla fiera internazionale dell'aerospazio. Andiamo a vedere sempre a Grottaglie la quindicesima edizione di Medici per San Ciro. Un momento per conoscere più da vicino una realtà che accoglie la sofferenza di bambini e restituisce la gioia del sorriso. Prende il via la quindicesima edizione di Medici per San Ciro, l'associazione che dal 2006 organizza in concomitanza dei festeggiamenti religiosi in onore del santo patrono a Grottaglie, incontri di carattere scientifico. Per noi è veramente un bel traguardo, 15 anni di ricerca, 15 anni di interesse verso la salute pubblica, 15 anni di volontariato, che quest'anno il tema è sul volontariato come cura, perché è una medicina per lo stare bene, non solamente per chi lo riceve ma anche per chi lo fa. Noi già dall'anno scorso siamo impegnati su questa rete con Dinamo Camp, questa grossa organizzazione mondiale. La sezione di onco-ematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto segue ad oggi oltre 70, tra bambini, adolescenti e giovani adulti affetti da malattie oncologiche ed ematologiche. Questo incontro serve a conoscerci e serve anche a raccontare le realtà di una sanità che con un po' di difficoltà riesce comunque a essere vicino ai bambini di questo territorio, soprattutto quando si trovano ad affrontare delle malattie serie come sono i tumori infantili. Il nostro reparte di onco-ematologia pediatrica è nato ormai da due anni e sta facendo dei progressi abbastanza importanti, quindi dei piccoli passi volta per volta, grazie anche non solo all'ASL di Taranto, ma anche a tanta gente che ci è vicino e ci sostiene. Questo per noi è fondamentale. Torniamo a parlare di ambiente, ma anche di emissioni, quelle del siderurgico, nuovo esposto in procura firmato da alcuni cittadini. Guardate. 200 tarantini hanno sottoscritto un esposto presentato oggi in procura. Si chiede di fare piena luce ed eventuali accertamenti in merito all'episodio del 26 gennaio, di pomeriggio a Taranto. Non è chiaro che cosa sia accaduto all'interno della fabbrica Arcelor Mittal. Un grande bagliore nell'area cocheria, ma non soltanto. Insomma, l'azienda ha liquidato parlando di 15 minuti, ma voi avete presentato un DVD con due ore di registrazione. Che cosa non vi sembra chiaro? Abbiamo ridato i certificati delle emissioni che vanno da circa le ore 16 alle ore 18 e non, come dicono alcuni sindacati o l'azienda stessa, poche decine di minuti. Abbiamo chiesto quale sia stato l'eventuale danno sanitario e l'eventuale contaminazione dei terreni. Sono delle firme raccolte in pochissime ore, praticamente, anche perché hanno accusato malori, svenimenti, bruciori alla gola e purtroppo queste cose non vengono ancora segnalate in maniera importante proprio della magistratura. Conte verrà a Taranto per la terza volta e adesso chiediamo che venga con una soluzione concreta su il rispetto della legge e della Costituzione, perché non si può andare più avanti così. C'è da sottolineare che voi avete già presentato un esposto ormai qualche tempo fa su un altro episodio per il quale ancora non c'è stata risposta. No, ancora nessuna risposta. Purtroppo anche la sentenza della CEDU del 24 gennaio dello scorso anno continua a essere inascoltata. Restiamo a Taranto. Lavori di ristrutturazione al campo scuola. Vediamo. Ecco come sarà il nuovo campo scuola di Taranto. È previsto un investimento di quasi 2 milioni e 400 mila euro per la riqualificazione della struttura sportiva del rione Salinella. È stato pubblicato l'avviso pubblico per l'esecuzione dei lavori. Le imprese, fa sapere l'assessore Occhinegro, avranno circa un mese di tempo, entro il 2 marzo, per presentare le proposte migliorative e partecipare al bando. Un altro importantissimo tassello, ha detto il sindaco Melucci, si andrà presto ad aggiungere la dotazione impiantistica sportiva della nostra città e del quartiere Salinella in vista dei giochi del Mediterraneo. In particolare, i lavori riguarderanno l'adeguamento ed ampliamento dell'esistente pista di atletica leggera, circa 400 metri a 8 corsie, con una nuova pista polistica e percorso siepe. Il rifacimento delle pedane di atletica leggera per salti in estensione, lungo e triplo, per i salti in elevazione con l'asta, i lanci del giavellotto, disco, martello e peso, e poi l'adeguamento dell'unotto e della pedana utilizzati per i salti in elevazione e lanci. Sarà inoltre rifatto il campo di atletica leggera in erba naturale, con relativo sottofondo, impianto di drenaggio e irrigazione. Saranno ristrutturati e ampliati i blocchi degli spogliatoi e dei servizi per atleti e addetti. Poi ci sarà anche la casa del custode. Sarà ristrutturata e adeguata la tribuna, spettatori e saranno realizzati locali di servizio e dotazioni sotto tribuna. Saranno in ultimo riqualificati tutti gli spazi a verde, interni ed esterni all'otto, le recinzioni, gli accessi e saranno eliminate tutte le barriere architettoniche. Andiamo avanti, torniamo a Brindisi con un incontro a Confindustria. C'era anche, lo ricorderanno gli interisti, Ernesto Pellegrini, presidente della società nerazzurra ai tempi dei tedeschi e dello scudetto dell'89 contrabattoni. Il mio augurio è proprio che tutti, iniziando da Brindisi, si ritrovano con l'ottimismo, con la voglia di fare, con la voglia di lavorare in continuazione e di avere quindi successo. Figlio di Ortolani, diploma di ragioniere, Ernesto Pellegrini è divenuto uno dei più grandi imprenditori italiani. Per oltre dieci anni è stato presidente dell'Inter. Un relatore d'eccezione dunque per le vie del successo, una serie di incontri organizzati da Confindustria Brindisi per far conoscere agli associati storie imprenditoriali eccellenti. Ospite anche il cantante Albano Carrisi, attivo da anni nel settore vinicolo. I segnali di ripresa ci sono e queste occasioni sono molto importanti per lanciare dei messaggi di positività, di speranza e di motivazione ad andare avanti e a fare sempre meglio. Siccome parliamo di corsi e ricorsi storici, probabilmente e spero abbiamo già in qualche modo toccato il fondo e quindi non ci resta che sperare e auspicare e operare in favore di una risalita. Il mio amico Ernesto Pellegrini sta presentando un libro veramente molto interessante ed è bello quando uomini che hanno una storia interessante sulle spalle hanno anche la benevolenza di pubblicarla perché chi ha fatto tanto è bene che si proponga agli altri perché facciano tanto. Restiamo sempre a Brindisi, parliamo di ristorazione scolastica, vediamo. Arriva il servizio. Un incontro informativo con il personale delle aziende che si occupano della ristorazione scolastica a promuoverlo a Brindisi l'unità operativa e igiene della nutrizione del servizio Sian del Dipartimento di Prevenzione dell'Asa di Brindisi in collaborazione con l'Istituto Alberghiero Piertini con l'obiettivo di informare sulle modalità e tecniche di presentazione dei piatti previsti nel menu scolastico 2019-2020 in vigore nelle scuole della provincia di Brindisi. Noi abbiamo deciso di realizzare questo incontro informativo non avendo ovviamente la presunzione di voler insegnare a chi è in cucina da molti anni però noi riteniamo che condividere delle informazioni, delle notizie con chi da anni è nell'istituzione, nella ristorazione scolastica possa sicuramente riuscire a migliorare i servizi che una ristorazione scolastica dovrebbe offrire ai nostri e ai nostri ragazzi. Consideriamo che nel 2018 è stato redatto a livello regionale una linea guida sulla ristorazione scolastica per cui ovviamente le materie che sono state trattate, le informazioni che sono state date effettivamente esigono che delle conoscenze debbano essere implementate e debbono essere anche socializzate per migliorare i nostri servizi sulla ristorazione scolastica. Torniamo a Taranto per parlare di archeologia, di teatro e di rotte letterarie L'archeologia tarantina sbarca in teatro le storie poco conosciute della città saranno raccontate con vere e proprie rappresentazioni oltre ai teatri cittadini saranno allestiti palcoscenici in luoghi storici come il Castello Aragonese il Museo di Ocesano, la Necropoli di Via Marche, la Chiesa di San Cataldo ma anche alcuni palazzi storici del Borgo Antico Illustrato a Palazzo di Città il calendario della rassegna denominata Rotte Letterarie 11 appuntamenti dal 2 febbraio al 4 aprile per riscoprire la storia letteraria di questa terra Storia, letteratura, teatro, la rassegna Rotte Letterarie, Autori ed Eroi nell'Oionio è stata progettata dall'amministrazione comunale di Taranto in collaborazione con il Crest e tra beni culturali, musei, nobilissima Taranto, social lab e Taranto Sotterranea Sarà un percorso tra le principali fonti storiche di eroi e viaggiatori che hanno solcato, vissuto e raccontato il loro percorso nell'Oionio e nel territorio della Magna Grecia Sarà un viaggio, un viaggio interiore, un viaggio psicologico, un viaggio culturale nelle antiche origini mediterranee della città di Taranto e ripeto per noi che siamo archeologi è stata un'occasione straordinaria per scoprire aspetti inediti e tutti coloro che sono appassionati di viaggi fisici su strada ma anche di viaggi mentali sono assolutamente invitati perché le sorprese saranno moltissime Tra i protagonisti anche il geologo e saggista italiano Mario Tozzi autore di numerosi programmi televisivi il comune di Taranto ha organizzato la rassegna nell'ambito del progetto Polisemi finanziato dall'Unione Europea Rotte letterarie che ci portano lungo percorsi poco conosciuti ma è tutta Taranto che è poco conosciuta soprattutto la bellezza di Taranto è poco conosciuta perché è un patrimonio culturale e archeologico che è quello che noi tarantini conosciamo almeno in parte ma potremo scoprire anche quello che non conosciamo ma che vogliamo far conoscere al resto d'Italia e del mondo E restiamo a Taranto, parliamo di danza con il maestro Paganini Ballet and Contemporary Dance Workshop nel prestigioso Centro Danza Coro Sataranto diretto da Angela Barbanente con il maestro Raffaele Paganini per la danza classica lezioni di livello intermedio e avanzato la danza contemporanea con il maestro Fabrizio Monteverde di livello avanzato il laboratorio di contemporaneo con il maestro Veronica Grasso lezioni di livello baby intermedio, contact e floor work che emozioni si vive quando si torna tra i due mari? guarda, l'emozione dei due mari è straordinaria in quanto tale proprio stare in mezzo a due mari è già straordinario di per sé però l'emozione è sempre un'emozione che tocca più l'anima tocca l'anima perché lavorare con questi ragazzi, con questi giovani ragazzi che pendono dalle mie e dalle nostre labbra che sono lì che qualsiasi cosa diciamo potremmo dire qualsiasi cosa in quel momento in questi particolari tempi che viviamo una disciplina così rigorosa come la danza forse può insegnare anche qualcosa in più di un passo, è vero? questo è quello che hai detto, è estremamente giusto Angelo, tu mi insegni che è una delle cose più importanti la disciplina e il rigore dei ragazzi il rigore e la disciplina soprattutto oggi come oggi che la società e anche i ragazzi non hanno tanto disciplina e tanto ordine anche nella loro metodologia di lavoro e quindi la danza gli dà una forma mentis sono nostri ospiti anche altre scuole scuole che sono venute anche da Grottaglie scuole anche della città quindi questo vuol dire che piano piano ci stiamo aprendo ma soprattutto che il maestro Paganini richiama chiaramente tantissimi allievi e torna nelle vesti di insegnante un talento che è cresciuto proprio in queste sale Veronica Grasso che è un talento tutto tarantino oltretutto sappiamo di ritorno da Pamplona in Spagna sì, da poco tempo tornata da Pamplona dopo un'esperienza molto molto costruttiva è sempre entusiasmante tornare perché oltre a lavorare con i piccoli danzatori in generale tornare nella propria città dà una forte carica torniamo a Lecce lo facciamo per parlare di memorie e di ricordi in mostra guardate in occasione della giornata della memoria 2020 le sale del Convitto Palmieri e la Biblioteca Bernardini di Lecce ospitano la mostra racconti di memoria storie di accoglienza da una terra di frontiera l'evento di riapertura è dedicato alla memoria di Piero Terracina instancabile testimone degli orrori della scià il regista, suo amico fraterno Piero Farina ha raccolto le sue testimonianze e ne ha realizzato un film documentario dal titolo per ignota destinazione prodotto dalla RAI nel film sono rese pubbliche le memorie di Piero Terracina accompagnato passo dopo passo nel viaggio a ritroso verso il campo di concentramento di Auschwitz la storia di Piero Terracina che è stato deportato dal ghetto ebraico di Roma è portato a morire assieme a tutta non lui ma tutta la sua famiglia lui è stato l'unico che si è salvato ad Auschwitz e poi aver fatto con me il primo documentario della sua vita nel 1995 ha continuato a diffondere le notizie che riguardavano condizioni di vita e di morte anche che hanno subito gli ebrei nel campo di concentramento di Auschwitz Birkenau ha meritato il riconoscimento di tutta la comunità ebraica e non solo di questa ma anche di tutti gli italiani che intendono capire che cosa è stata la Shoah ed ora questa è la nostra ultima notizia termina qui questa edizione del nostro telegiornale di La Cronaca torna in diretta con l'edizione del 19.25 vi ringrazio per la cortese attenzione e vi lascio in buone mani c'è Denis Magri con il TG Sport grazie per l'attenzione un buon proseguimento di giornata grazie per la visione